Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani per cambiare il mondo d'oggi. Cristo non ha in piedi, ha soltanto i nostri piedi per guidarlo fino a Dio. Allora va, fratello, non aver paura, il Signore ti accompagnerà. Allora va, fratello, non aver paura, il Signore ti accompagnerà. Cristo non ha labbra, ha soltanto le nostre labbra per parlare agli uomini. Cristo non ha mezzi, ha soltanto i nostri mezzi per guidarli fino a Dio. E allora va, fratello, non aver paura, il Signore ti accompagnerà. E allora va, fratello, non aver paura, il Signore ti accompagnerà.